ragazzi è una congiura oggi è il perché metto lui chiesto gavetino oggi è il 28 oggi è il 28 di novembre e sta uscendo l'alba ma piove 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 e niente si vede che proprio una perturbazione che gira qua attorno vediamo cosa succede oggi si è aperta un po adesso penso che si vada a fare una bella lavandaia una bella lavanderia perché c'è un po di roba sporca e vediamo facciamo colazione allora è uscita una giornata fantastica ma c'è un problema veramente grosso ed è che mi è entrato un piccolino in camper mi sono accorto perché avevo del cibo per cani piccolino sai quei denta sticks quei cosi così che davo alla margottino comunque qualche cane che c'è in giro qua l'ho visto sgranocchiato non c'erano cacca in giro sai che i solito i topi lasciano cacca in giro invece non c'era nulla nell'angolino dietro la macchina del caffè ho visto che c'erano due stronzettini ne è venuto il panico allora niente adesso sto provando siccome qua non esistono trappole per topi nel senso che nei supermercati che sono andato non ci sono ci sono sono quelle delle cucaracce che sono gli scarafaggi e le formiche e niente allora mi sono inventato siccome avevo visto mi ricordo su youtube un video come catturare i topi senza la trappola classica eccolo qua ho fatto questo bidoncino qui con il mangiare dentro biscotti normalmente di sapore e qui praticamente quando va dentro qua che gli metto adesso un pezzettino di questo qua attaccato così quando va dentro sente il profumo lì e scivola dentro ma non esce più perché anche se si arrampica non riescono a fare il giro al contrario l'avevo visto su un video di youtube comunque adesso guardate il mio dalla lì e vi faccio vedere se lo prendo o no delle persone veramente schifosi che hanno lasciato le sigarette qua per terra adesso le andiamo a a tirare su con la pinzetta era proprio qua dove li ho visti dove li ho visti erano qua eccoli qua fresche fresche che li ho visti proprio andare via vedete e li mettiamo dentro qua un amico dal viaggetto in bicicletta grande ok è fantastico perché è come un mirador ok ora costa este mi riesla cc 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 o sono 2 3 3 Che? Cheeeeeeees! Salute!